Arrivano i nuovi Maxi Scooter BMW C600 Sport e C650 GT. Uno dinamico e aggressivo, l'altro turistico, più da professionista in giacca e cravatta che deve divincolarsi nel traffico della City. Con questi Maxi Scooter la casa tedesca ha lanciato la sfida a Suzuki Bergman, Yamaha T-Max e Honda Silverwing. C600 Sport e C650 GT entrano così in un segmento di mercato presidiato storicamente da questi tre nomi. Impresa complicata che i due modelli promettono però di portare a termine con successo. BMW, tramite la sua divisione Motorrad dedicata alle due ruote, sta perfezionando nel frattempo il C-Evolution, un Maxi Scooter Full Electric che vedremo nel 2014. Al centro dei due modelli prodotti nello stabilimento berlinese c'è un motore bicilindrico da 647 cm3 con potenza nominale di 60 CV a 7500 giri minuto e coppia massima di 66 Nm a 6.000 giri minuto. Da subito il più potente della categoria. Assetto, soluzioni aerodinamiche e design ne fanno due veicoli totalmente diversi. Il C600 Sport è infatti dedicato a chi cerca una guida più vivace, un po' più movimentata. Affusolato, strizza l'occhio alla gamma delle moto col suo manubrio più basso e la sella sportiva, mentre il C650 GT ha mica chi ama la guida turistica e sembra perfetto per imbarcarsi anche in un viaggio verso mete più distanti. Il capo del design due ruote urbane BMW, Sebastian Wiem, che abbiamo incontrato nel motosalone BMW Motorrad Roma, ha spiegato che si è trattato di uno sviluppo qualunque dettagliato, durato quasi cinque anni. L'intenzione era quella di impostare i due modelli che partono dalla stessa piattaforma, integrando molte soluzioni dalle moto e dando loro un fortissimo family feeling con tutto il brand BMW. Dall'uso dei led per i fari allo studio sulle linee di design, senza dimenticare chiaramente il comfort. Le specifiche tecniche sono di altissimo livello, a cominciare dall'ABS a due canali di serie, alle bassissime vibrazioni al cambio CVT integrato, passando per la ciclistica ibrida ad alta resistenza torsionale. E poi c'è l'impianto di scarico in acciaio inossidabile e i valori limite già pronti per l'enorme antinquinamento Euro 4, oltre al doppio freno a disco anteriore, a quello singolo posteriore da 270 mm fino al computer di bordo, utilissimo compagno di avventura. Dei due maxi scooter colpisce subito l'eccezionale stabilità in rettilineo a velocità elevate e la grande maneggevolezza a dispetto del peso di 250 kg. Il C600 Sport adotta il Flex Case, un sistema di stivaggio del bagagliaio che aumenta la capienza del vano sottosella in cui entrano due caschi integrali. La versione Executive esibisce un parabrezza regolabile elettronicamente. I colori disponibili per ciascuno dei modelli sono tre. Per lo Sport troviamo il tradizionale Cosmic Blue metallizzato opaco, il nero zaffiro e il titan silver metallizzato, mentre per il GT abbiamo il Platin Bronze, il Red Vermilio e il nero zaffiro.